Tante le novità in merito alle conseguenze sul coronavirus prende anche posizione la Chiesa Cattolica che afferma il riferimento alle disposizioni della CE e della Cesi per salvaguardare i fedeli dal contagio del coronavirus e in via prudenziale si danno le seguenti disposizioni. Si omette il rito dello scambio della pace, la comunione si distribuisce esclusivamente sulla mano e al calice beva soltanto il Presidente, le acquasantiere siano svuotate. Anche il Sindaco di Agrigento interviene per i danni economici del coronavirus promuovendo un incontro con gli operatori turistici, una valutazione congiunta dei danni gravissimi subiti, modalità e tempi di attuazione delle misure previste dall'Unione Europea e dal Governo nazionale e regionale, Le istanze da rappresentare in modo condiviso agli stessi governi sono alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso di un incontro promosso dal primo cittadino di Agrigento, Lillo Firetto, con gli operatori del turismo al momento tra i più colpiti dalle misure di prevenzione dal contagio del coronavirus. La riunione si svolgerà mercoledì prossimo alle ore 10 nella sala giunta del Palazzo di Città. Nel corso dell'incontro il Sindaco, considerato l'evolversi della situazione nella nostra regione e l'efficacia delle misure adottate nelle regioni più colpite, laddove se ne evidenziano i presupposti, valuterà con gli operatori un programma di graduale rientro dall'emergenza. Interviene anche l'onorevole Giussi Savarino. Ho chiesto, afferma l'onorevole Presidente della Commissione Ambiente, al Presidente Musumeci, di mettere all'ordine del giorno un tavolo nazionale il grave danno economico subito dalle aziende agrigentine a causa dell'annullamento della sagra del mandorlo in fiore. Siamo la prima regione per incremento turistico in Italia, afferma l'onorevole Savarino. Un evento internazionale come quello avrebbe portato tantissimi turisti e invece sono state cancellate le prenotazioni. Il danno economico è enorme, non possiamo lasciare da sole le nostre imprese. Ieri il Presidente Musumeci ha posto il tema durante il Consiglio dei Ministri, ha allargato alla sua presenza. Il Ministro dell'Economia gli ha risposto dicendo che sta predisponendo un decreto ad ocche. Attendiamo fiduciosi ma vigili, afferma l'onorevole Savarino. Anche in campo sportivo ci sono delle novità sulle partite che si andranno a disputare. La fortitudo agrigento comunica che sulla base di quanto deciso dalla Federazione Italiana Pallacanestro di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la Lega Basket Femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, dispone la sospensione e il conseguenze rinvio di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 bimaschile, A1 e A2 femminile. Pertanto, afferma la fortitudo, non si giocherà la partita valevole per la ventisesima giornata di campionato tra la fortitudo agrigento e la deltona basket. Intanto, ieri pomeriggio in Commissione Saluto dell'Arse, presieduta dal Presidente Margherita del Rocca Ruvolo, l'audizione dell'assessore regionale per la salute Ruggero Rassa sull'emergenza coronavirus. Per l'onorevole Ruvolo l'attenzione è alta, ma la situazione è sotto controllo e in linea con le direttive del Ministero per la Salute. Si attende adesso l'ordinanza nazionale della protezione civile, con tutte le informazioni necessarie per la prevenzione e per uniformare i comportamenti in tutte le regioni e nei comuni. La Commissione Salute, nella sua interezza, continuerà e vigilerà al monitorare la situazione in sinergia con il Governo regionale. Quando ha dichiarato la Rocca Ruvolo, a margine dell'audizione in cui l'assessore ha riferito sulle misure adottate e quelle in corso per affrontare l'emergenza coronavirus, in Sicilia è stato attivato il numero verde 800 45 87 87 per tutte le informazioni utili tra le misure previste e anche l'allestimento di tende da campo nei dipartimenti di emergenza e l'accettazione di secondo livello degli ospedali dell'isola per il primo triage dei pazienti che manifestano sintomi influenzali in modo da evitare il passaggio nei pronti soccorso, l'acquisto di 30.000 mascherine in arrivo per il personale sanitario e la realizzazione di stanze a pressione negative per aumentare il numero dei posti considerando che sono 64 in Sicilia quelli per le malattie infettive.